Siamo alla 61esima Assemblea, oggi giornata importante anche perché forse in serata verrà fuori il nome del nuovo Presidente. Lei lascia dopo due mandati, non potendosi ripresentare per un terzo, qual è l'eredità che lascia e a livello personale un suo commento su questi anni di grande impegno? Sicuramente lascia un'associazione estremamente viva, estremamente dinamica, con un gruppo di imprenditori che in questi anni si è anche rinnovato e che ha moltissima voglia di fare, un gruppo di imprenditori liberi che hanno voglia di occuparsi della nostra città ma soprattutto delle aziende all'interno di questo territorio e quindi per me sono stati sei anni molto belli, li ho definiti, li sto definendo entusiasmanti perché mi hanno permesso di crescere, mi hanno permesso di capire cosa vuol dire rappresentare aziende importanti, mi hanno permesso di capire il valore della rappresentanza, di come anche noi imprenditori se siamo uniti possiamo incidere e quindi le partite che abbiamo giocato come associazione in questi anni sono state tante, alcune le abbiamo tra virgolette vinte, altre invece non le abbiamo perse ma l'importante è occuparsi della cosa pubblica e delle nostre aziende che hanno bisogno di un territorio sano. Non sono mancati anche dei messaggi altisonanti, un richiamo alla società civile ma anche alle altre associazioni di categoria a fare rete, avete osato anche, avete spinto su alcuni messaggi, era giusto farlo? Sì, era giusto farlo, abbiamo affrontato tematiche complesse, ad esempio la legalità, il rischio delle infiltrazioni malabitose nel nostro territorio è stato uno degli argomenti più delicati però abbiamo ritenuto di spenderci perché c'era bisogno e perché siamo imprenditori sani che vogliamo operare in un territorio sano. Poi è chiaro quando abbiamo parlato di aeroporto, di AGSM, di cattolica, di banche l'abbiamo fatto sempre con un unico fine, non ci interessa criticare per criticare, ci interessa porre attenzione a delle situazioni che magari non sono valutate, con la speranza e la convinzione che noi lo facciamo nell'esclusivo interesse delle aziende che rappresentiamo. Nessun rimpianto quindi? Assolutamente nessun rimpianto, sono assolutamente convinto che questo sia il modo e il dovere di chi rappresenta un'associazione importante e quindi auguro al futuro gruppo dirigente, al futuro presidente di poter essere libero di esprimersi come sono stato io. Oggi per l'Assemblea per l'occasione avete presentato anche uno studio in collaborazione con l'Università di Padova che tenta di dare un quadro generale in un momento storico particolare per tanti motivi. Certo perché si parla tanto di transizioni, si parla di come fare crescere le nostre aziende in una economia sempre più complessa e globalizzata e allora abbiamo ritenuto di non partire da sensazioni, da convinzioni astratte ma abbiamo commissionato al professor Gubita questo studio fatto sulle aziende veronesi e aziende venete che testimoniano dei trend, nel senso che è chiaro, quando si fa uno studio si cerca di definire degli scaglioni dimensionali. Noi all'interno del mondo delle PMI abbiamo voluto analizzare quelle sotto i 20 milioni, quelle dai 20 milioni ai 50 milioni di fatturato per capire come si stanno muovendo. Abbiamo capito che c'è bisogno di una giusta dimensione per queste aziende e forse questa giusta dimensione è un po' più grande di quella attuale. E allora quando ci rivolgiamo alla politica per chiedere una politica industriale mirata sulle PMI dobbiamo anche dargli obiettivi che prima di tutto devono essere condivisi da noi e poi spinti, portati avanti con motivazione per convincere la politica che noi le PMI siamo il settore su cui investire. Renato Della Bella da domani cosa farà? L'imprenditore, come ho sempre fatto. Grazie Presidente per questo impegno davvero di sei anni sul territorio a nome chiaramente anche della nostra redazione. Grazie a voi perché ci avete sempre sostenuto, ci avete dato voce ed è importante che ci sia una stampa libera che sente tutti, che prova a far sintesi e che stimoli una città che spesso...